Buonasera a tutti quanti, eccoci di nuovo, abbiamo Fulvio, abbiamo Luca, sono due compagni di viaggio per questa serata, poi più tardi ci raggiungerà anche Mirko per una serata speciale, speciale in tutti i sensi, visto che oggi celebriamo il novantesimo anniversario della nascita di John Barry. Purtroppo John Barry è morto già da qualche anno, quindi diciamo che non è un novantesimo compleanno, però in qualche modo lo vogliamo ricordare per questo importante anniversario, per tutto quello che ha significato nella storia della musica, nella storia della musica al cinema. Io appunto presento i due ospiti, abbiamo detto Fulvio, Fulvio Greganti e Luca Mib Paoloni, che sono due appassionati di cinema, anche di musica, soprattutto con cui mi lega la passione per James Bond in particolar modo, ma come vedremo John Barry non è solo James Bond, anzi è tanto e tanto altro. e quindi io vorrei, appunto ci lega anche il fatto di essere soci, Luca è anche vicepresidente dell'associazione James Bond Italia, sezione doppio zero, quindi è un elemento anche importante di aggregazione sociale. Io ho preparato come il mio solito una serie di slide che poi ci in qualche modo accompagneranno per questa serata e inizierei subito con degli elementi anagrafici. John Barry Prendergast, nacque a York, nello Yorkshire appunto il 3 novembre del 1933 e morì a Oyster Bay nello stato di New York il 30 gennaio 2011, quindi sono già 12 anni, quasi 13, che è morto John Barry. nasce come trombettista e arrangiatore negli anni cinquanta, la sua prima attività particolarmente intensa all'interno del mondo dello spettacolo, inizialmente solo della musica, appunto come tecnico della musica, e a tal proposito, a tal proposito io voglio subito coinvolgere Fulvio, perché Fulvio è tra l'altro, diciamo che Fulvio è anche uno scrittore, un saggista molto di valore, mentre Luca è principalmente un cineasta, possiamo dire un cineasta Luca, sei un sceneggiatore, regista, attore, quindi diciamo che ognuno dei due... diciamolo, diciamolo, da due giorni anche online su YouTube, il nostro ultimo film thriller, la tigre verso di nero, colgolo che si è visto. Quindi Fulvio e Luca in questo sono complementari, perché compensano ognuno degli aspetti interessanti, e all'interno dell'attività editoriale, anche dell'Associazione Cultura James Bond, l'anno scorso è uscito questo numero monografico, sui 60 anni del primo film, Dottor No, nel quale c'è un interessante, ci sono molti articoli anche a firma di Luca, a firma mia, eccetera, ma è molto interessante e pertinente con l'argomento di oggi, è questo articolo che ha per titolo Quell' Iconico Swang di chitarra, che affronta il tema musicale di James Bond e anche su una sorta di incontro-scontro tra i due nomi principali, ossia Monty Norman e John Barry. Quindi io chiederei a Fulvio di farci una sorta di racconto di questo articolo e su tutti i temi dell'articolo che in qualche modo vanno a farci capire ancora meglio come è nata l'attività di John Barry in James Bond, ma anche in maniera un po' più ampia, come arriva un trombettista e arrangiatore a diventare uno dei più grandi artisti musicali del cinema internazionale. E guarda, per il pezzo dell'epoca, mi sentite bene? Sì, sì. Sì. Il pezzo dell'epoca era stato scritto perché era morto da poco Monty Norman, quindi l'occasione è stata ovviamente quella. E Monty Norman ha dato il via al motivetto musicale di 007, quello classico. Ovviamente lì si è inserito John Barry perché lo ha proprio musicato e vestito. Lo ha vestito. Quindi l'arrangiamento e poi nel corso del tempo, nei 12-13 film che ci sono stati in seguito, lo ha proprio arrangiato e lo ha arricchito nel corso del tempo. Dicevi trombettista all'inizio, quella è una suggestione che ci voglio parlare sopra. Trombettista è stato anche in Italia Ennio Morricone perché ha cominciato a studiare la tromba al conservatorio. Quindi questa è una perfetta analogia tra Morricone e John Barry, anche se l'inizio di John Barry è molto diverso perché l'inizio di John Barry è molto più anarchico e molto più autodidatta. Quindi non era proprio riferito alla scuola. Morricone ha un inizio più scolastico, diciamo, e la produzione forse di Ennio Morricone è stata alla fine molto più vasta. Però per questi tipi di artisti è giusto definirli compositori perché non si sono solo rifatti ad una... come dire, spaziavano tra la musica leggera e la musica classica, facevano musica contemporanea ma prendevano elementi sia dell'una che dell'altra parte. Io riferendomi a quell'articolo ho poi parlato di John Barry e ho fatto riferimento ai diversi film di 007. Per esempio mi sta venendo in mente che nel film Al Servizio Segreto di Sua Maestà John Barry ha proprio riarrangiato profondamente il tema di 007 e la prima parte del film, in cui poi c'è anche la canzone di Louis Armstrong, sempre musicata da lui la prima parte del film sembra quasi un film musicale addirittura perché non so se ci fate caso da questo punto di vista, è veramente notevole. Come dicevi tu all'inizio, lui... Esatto, sì. Non so se ricordi, Luca, questa cosa qua. Era questa. La tromba si sente... L'impatto era veramente forte da quel punto di vista. Esatto. Volevo dire un'altra cosa, adesso mi sono distratto. Era un'autodidatta del fatto che... Sì, sì, all'inizio lui era completamente libertario nei gusti perché nella Big Bang che ha messo insieme all'inizio da giovane lui mescolava lo swing con rock, assolutamente le chitarre elettriche con gli archi gli archi però erano tenuti completamente in disparte erano completamente periferici cosa che invece da compositore adulto questo non farà più perché da compositore adulto sarà molto più tra virgolette conservativo non so se avete presente il film La mia Africa che lui ha musicato in maniera geniale ma è un film proprio da compositore arrivato Sì, sì, infatti ci prese uno dei suoi cinque Oscar le prese per La mia Africa, tra l'altro Fatemi altre domande, fatemi altre domande No, no, adesso vorrei coinvolgere anche Luca perché qui giustamente un commento che è stato fatto qui cinque premi Oscar dodici colonne sonora di 007 un mostro sacro sul podio con Alfred Newman e John Williams tra i più grandi compositori della storia del cinema e a tal proposito qui ovviamente sposato anche con l'attrice Jane Birkin per pochi anni ma del 65 al 68 sicuramente un matrimonio molto intenso all'interno anche di uno start system e mi piace ricordare come Michael Caine amico fraterno di John Barry che lo aveva ospitato per un periodo appunto che Michael Caine si trovava senza casa e raccontava che mentre dormiva John Barry aveva composto anche la notte le varie musiche e appunto diceva Michael Caine io sono stato il primo ad ascoltare la musica di Goldfinger perché mentre dormivo a fatica John Barry continuava a suonare e proprio per questo motivo Luca dacci una tua impressione un tuo parere sulla figura di John Barry all'interno di un veramente uno start system un sistema di grandi celebrità che appunto passano dalla musica ai film tante persone a partire appunto dalla Birkin Michael Caine ma ripeto tante altre occasioni di cinema perché poi gli Oscar li ha vinti tanti ma con film veramente vari pensiamo a Balla coi lupi La mia Africa pensiamo pensiamo attenti a quei diciamo esperienze anche in televisione attenti a quei due diciamo qui appunto ho fatto una molto diciamo rapida carrellata no? che appunto Zulu dove c'è lo stesso Michael Caine ma appunto Ip Crest come detto sempre con Michael Caine anche la collaborazione con Michael Caine diciamo è molto un altro film un altro film notevole è stato Cotton Club se posso Cotton Club di Coppola esatto sì ma poi fece anche The Black Hole il buco nero della Disney mi ricordo quelle musiche molto molto drammatiche molto molto pesanti che sfruttavano molto la drammaticità di alcune scene del film di fantascienza non eccelso però insomma c'era un suo e lì c'era molti archi era molto preso Ipkess è molto è molto fatto di pianoforti di solitudine si sente proprio è tutta un'altra cosa sembra quasi un altro un altro compositore effettivamente sì quello è vero poi non so magari molti si ricorderanno di questa ad esempio questa è famosissima eccola eccola questa era la sigla iniziale di Attenti a quei due che era con Roger Moore tra l'altro che poi divenne dopo questo telefilm James Bond c'è un'altra assonanza e questo era un telefilm inglese degli anni i primi anni 70 e lui fece anche posso dire qualcosa su questo? posso dire qualcosa? come no? una una la sigla di questo telefilm 24 episodi poi non più replicati sembra come dire molto più solenne rispetto al telefilm ecco non so se il telefilm è più stanzionato la musica no è quasi triste è più sinfonica solenne non so se e c'è un suono tipicamente che si si dipana su tutto la musica che è un suono cosa? dillo che interessante questo lo strumento particolare dillo non mi ricordo il nome dillo non mi sta vedendo in mente il nome adesso no sì è vero è una cosa che lui usa particolarmente ogni tanto in alcune sue composizioni questo strumento dell'estremo oriente orientale volevo dire questo volevo dire questo volevo dire questo siccome è uno strumento tipicamente orientale e non mi ricordo tipicamente orientale mi fa venire in mente però John Barry è una persona tipicamente inglese sì stiamo parlando proprio di un gentiluomo inglese fedele alla regina tutto quanto questi inserimenti di suggestioni orientali sono da considerarsi come integrativi quindi non si può parlare tanto di orientalismi perché la sua musica è più che altro sinfonica è molto 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 solenne come hai detto anche prima però c'aveva questi elementi che lui integrava anche di volta in volta non so se siete d'accordo sì sì ci sono due fenomeni d'accordo anche perché anche nelle nelle musiche dei film di James Bond pensiamo appunto a si vive solo due volte ma anche altre pellicole ci sono i riferimenti aspetta eh dovremmo arrivare esatto ma anche l'uomo della pistola d'oro cioè sono tutti i film che hanno ovviamente dei richiami con con l'Asia con l'Estremo Oriente e John Barry riesce in maniera molto efficace a trovare una sintesi e una combinazione tra le melodie classiche che hanno contraddistinto i film di James Bond ma anche con le melodie classiche che lo lo caratterizzavano con degli elementi di eclettismo nella nella dinamica anche del delle stesse musiche una musica che non è mai la stessa non è mai non è mai fine a se stessa e non è mai sempre la stessa quindi in qualche modo ha degli elementi di modificazione in base anche molto identificabile però eh molto identificabile sì però sono 12 film 12 mi pare non ha fatto i film di James Bond sono tutti quanti diverse cioè tutte partiture diverse cioè questa che ho sentito adesso era quella di si vive solo due volte poi c'è la quella più ritmata più pompata di come dicevi prima di Al servizio che ti so mai sta poi ha fatto ha fatto Dalla Russia con l'amore ha fatto Dottor No Goldfinger cioè che poi dava anche Otto Pussi anche Otto Pussi sì ma per esempio guarda stavo notando proprio qualche tempo fa ascoltando più musiche diverse di film diversi come alcune alcuni motivi musicali per esempio di Balla con i Lupi o di Charlotte Chaplin li trovi in film come Zona Pericolo per esempio alcuni elementi di richiamo musicale e quindi c'è comunque anche un'impronta un'impronta che nonostante i film siano totalmente diversi pensiamo appunto qui la carellata King Kong Robin e Marian Cotton Club Moonraker Octopusi quindi la mia Africa ovviamente sono tutti questi film che in qualche modo hanno una loro specificità legata ovviamente anche al soggetto perché non è che puoi fare un film sulla mia Africa con dei con dei richiami all'Oriente è ovvio che no non lo puoi fare però nonostante questo c'è comunque un marchio di fabbrica che è costato è un timbro identificato esatto c'è come John Williams John Williams per dire tu vedi le musiche di 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 Superman o quelle di Harry Potter o quelle di Guerre Stellari se capisci capisci che è John Williams che sta che è il compositore la stessa cosa è John Barry che tu possa sentire un film una musica di un film di James Bond o La mia Africa o Balla coi lupi o che ti può dire Charlotte Chaplin tu capisci che quella è la musica di John Barry perché ha una sua chiara identificazione nel suo nel suo modo di fare musica non so se siete d'accordo d'accordo c'è un'impronta tipica in effetti è l'impronta che c'è anche John Williams che non è ovviamente la stessa di Barry però adesso sto per dire una bestemmia però Guerra Stellari e Superman un po' si assomigliano c'è un timbro suo c'è una sua come si chiama una sua impronta ma anche Harry Potter se tu vedi alcuni film di Harry Potter alcune musiche sono molto simili a quelli di Guerra Stellari alcuni elementi quindi quindi senza diversi simili ma diversi sì esatto che poi ha fatto anche John Barry non solo corone sonore ha fatto anche musiche originali non tratte non inserite purtroppo in nessun film adesso ne cito qualcune Danny Scipio Dem che è meravigliosa c'ha un inizio che è un capolavoro come arrangiamento The Knack o The Girl With The Sun In Her per dirne qualcuna sono poche adesso non so però ce ne sono alcune che sono molto strumentali molto delle brevi canzoni che adesso non vi faccio sentire ce lo ho qui ma non è il caso però ce ne sono parecchie però al di là di questa produzione fuori dall'ambito cinematografico sì lui si è distinto si è saputo distinguere un po' come Connery che è nato con James Bond ha saputo farsi valere anche al di fuori di un contesto bondiano appunto con altri ruoli come ad esempio quello che gli ha fruttato l'Oscar Johnny Malone sugli intoccabili quindi è riuscito a staccarsi da Bond così anche John Barry nonostante ha una sua impronta particolare ed è il compositore di James Bond e 12 film è riuscito anche a fare cose anche fuori dall'ambito di James Bond nell'ambito sempre del cinema beccandosi non uno ma addirittura 5 Oscar quindi come Connery si è saputo staccare da Bond perché a quanto pare staccarsi da Bond è difficile che fai l'attore o il compositore o il regista staccarsi da Bond a te si è quello di Bond è un marchio praticamente un marchio che a Connery lo faceva soffrire e invece a Barry pare che invece fosse più un biglietto una vista diciamo così una presentazione e poi ha firmato la musica di questo capolavoro Howard del destino del mondo che è uno dei film più iconici degli anni 80 tra l'altro il capolavoro di George Lucas non dimentichiamolo non è diretto da lui è diretto da Howard but è prodotto da George Lucas in cui ci credeva particolarmente Lucas e questo talmente tanto da produrlo da spenderci dei soldi e vabbè è stato un fallimento completo io di fatto lo capisco anche mi stavo in mente un'altra cosa mi stavo in mente un'altra cosa eh dici dici Fulvio io negli articoli ho riparlato di Barry ho riparlato di Barry ah ancora ancora non è uscito stavo facendo una gaffe grossolana no no vabbè ma infatti non le fette le faccio le gaffe no Fulvio guarda ci avevo pensato anch'io però infatti dicevo ma quello ancora non è uscito quindi vabbè però se lo vuoi dire scusa se vuoi mi taccio se vuoi mi taccio no 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 tanto facciamo anche un po' di pubblicità nel senso che fra circa un mese uscirà il secondo volume ah bravo bravo il secondo volume della dell'associazione tematico del cronologico dell'associazione cultura James Bond Italia che stiamo facendo le saghe al contrario abbiamo iniziato con Daniel Craig adesso abbiamo fatto Dalton e Brosnan insieme e quindi il periodo 87 2002 quindi diciamo che sulla falsariga del volume precedente che è stato molto apprezzato da dagli appassionati un volume che in qualche modo ci ha ci ha impegnato tutto l'anno scorso nella nella chiusura anche della 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 saga di interpretata da Daniel Craig e quindi diciamo che ben venga è tutta pubblicità Fulvio puoi parlare mi prendo io la responsabilità di fronte anche al presidente di poter parlare anticipare i temi della delle musiche ci sta guardando ci sta sentendo non dimentichiamocelo dietro le quinte ma ci sente ci vede no volevo dire lui lui ha smetto ha smesso di scrivere le colonne sonore di 007 dopo che ha avuto una litigata furibonde con il gruppo musicale norvegese degli A questa era la cosa la cosa notevole è stata quella ma proprio per un problema di note di note musicali nel senso che Barry voleva restare fedele proprio al non cambiare proprio nessuna nota del 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 der del 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 della presentazione del film lui ci è rimasto molto male e ha fatto delle delle creazioni molto pesanti nel fronte dia e forse scorato da tutta quella vicenda forse perché già aveva come dire nella saga di bond ci aveva già messo il marchio molto pesante ha deciso di non partecipare di più anche se anche se david e ronald poi è stato suggerito alla broccoli proprio davvero si è stato un secondo me un grande un grande un grande elemento di non di rottura però di continuità secondo me perché è stato io io oggi come oggi indicherei michael giacchino specialmente dopo che l'ho sentito su gli incredibili però devi darlo a me mi sarebbe piaciuto tantissimo o il suo colonne sonore nello scaffale oggi che invece ho portato la compilation di eccolo qua la compilation di tutti i brani di john berry ovviamente però stavo pensando a quell'episodio con gli anni che io penso che con morte nackett alle leader del gruppo norvegese io penso che ciò sia dovuto anche al fatto che all'epoca negli anni 80 c'era un come si può dire una una specie di idolatria idolatrazione verso certe pop star che nate quasi dal nulla diventavano delle delle band che riempivano gli stadi facevano strappare i capelli le ragazzine e in base a quello si sentivano come si dice ricoperti da un potere tale che anche davanti a un a un pluripremiato premio oscar come john berry si sentivano in diritto di poter fargli appunto degli scherzi diciamo così scherzi tra virgolette o dire la loro quando in realtà non ho riflettuto su questo onestamente te giovanni come la pensi come la vedi comunque il loro magari la loro loro status che va siamo delle star riempiamo gli stadi le ragazzine si strappano i capelli e quindi si sono sentiti in diritto di comportarsi male con una persona più degna di rispetto come potrebbe essere ad esempio appunto john berry magari durandurand non so se hanno fatto lo stesso l'anno prima prima del con john berry sempre con però notizia in questo senso devo dire la verità sicuramente 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 è credibile il fatto che vi possa essere stato soprattutto negli anni 80 dove c'era una certa anche idolatria come giustamente ha detto luca nei confronti di alcune band come possono essere appunto e durandurand in particolar modo diciamo e quindi diciamo una contrapposizione anche generazionale esatto tra 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 un autore un autore consigliato vecchio da 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 ventenni trentenni quindi può aver contato questo sì 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 sicuramente sicuramente ha contato e lì eh lì c'è un problema di riuscire a a trovare una sintesi tra l'autore classico passatemi il termine diciamo un tradizionalista che in qualche modo segue delle re anche se poi le reinventa comunque segue delle regole ehm armoniche delle delle regole che in qualche modo sono all'interno di un sistema eh di di musicalità mentre ovviamente eh il il periodo degli anni 80 legato ovviamente a una una rivoluzione anche musicale pensiamo a Michael Jackson pensiamo a Madonna con delle eh delle delle varianti molto anche rivoluzionari in tutti i sensi quindi mi rendo conto che probabilmente lavorare insieme eh personalità così differenti soprattutto a livello di di età eh può può essere stata una delle appunto delle cause che poi ha portato a queste a queste incomprensioni lui lui disse è come se avessero urinato sulla bandiera inglese si ricordo questa frase io in effetti io mi sono reso conto che da un certo anno in poi ma molto prima del degli a ehm i broccoli praticamente la E.ON sceglieva come interprete della canzone dei titoli sempre un cantante o un gruppo che in quel momento del film andava in di moda andava in voga cioè che era l'apice delle delle classifiche e quindi eh Skyfall ci hanno messo Adele perché aveva triunfato l'anno prima non mi ricordo dove eh zona pericolo ci hanno messo IA perché erano esplosi in quell'epoca lì eh l'anno prima ci hanno messo i Duran Duran perché era l'epoca anni 85 84 86 il mondo in pazienza per cui eh diciamo che erano molto modaioli cioè erano dei gruppi delle canzoni che purtroppo potevano essere potevano andare bene solo in quel contesto storico lì in quel periodo lì risentiti oggi sono totalmente fuori tempo Massimo però in tutte le volte non funzionato eh io sì però chi l'ha visti più poi ha o anche Lulù o anche che Lulù ha fatto la pistola d'oro o o o molti altri insomma Matt Murrow che ha fatto che ha fatto eh Thunderbolt c'è tutte no Thunderbolt ha fatto no Thunderbolt perché ha fatto no Thunderbolt ha fatto coso ehm Tom Jones quello sempre rimasto Tom Jones assolutamente è da Lulù se con l'amore ha fatto Matt Murrow ah sì 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 però e comunque in zona pericolo ehm John Barry si concede anche una apparizione eh in un ruolo suo proprio perché fa il direttore d'orchestra alla fine del del film e quindi in qualche modo è anche una sorta di addio un un addio un addio eh figurato diciamo non so se non so se era già previsto nella prima della 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 decisione di di lasciare la saga oppure è avvenuto contestualmente però diciamo è interessante e curioso eh che l'ultimo l'ultimo film eh a cui egli presta la musica sia anche il film l'unico film in cui egli compare nel ruolo appunto di un musicista quindi questo è ancora più eh iconico questo questo dettaglio e eh dall'ottantasette in poi prosegue la sua strabiliante carriera l'abbiamo visto diciamo che non è che avesse non avesse fatto nulla anzi diciamo la la sua la sua produzione abbiamo visto che appunto ha toccato anche punte come la mia Africa dove ha vinto l'altro qui possiamo vantare che questo è l'Oscar originale eh della della mia Africa e questo è questo stato è stato battuto all'asta eh l'ho comprato mi sono svenato ho fatto un mutuo per comprare l'Oscar della mia Africa questo è quello originale vedete anche la mano è la stessa vedete la mano con l'anello no ecco quindi per chi fosse interessato magari mi mi può mi può scrivere ma come sarebbe mi può scrivere in privato eh se se veramente mi mi offre una cifra importante potrei anche venderlo l'Oscar di John Barry eh di della mia Africa quindi questo è originale veramente vedete fa anche il rumore quindi qualche modo eh è è proprio lui è proprio lui no dicevamo appunto eh film veramente importante appunto abbiamo citato prima eh Cotton Cotton Club eh Robin eh Robin e Maria ma è King Kong nel 76 quindi diciamo che è veramente eh specialista di grande di grande e ma appunto dopo dopo ehm zona pelicolo abbiamo innanzitutto Balla coi lupi dove avrebbe appunto vince anche qui un altro Oscar eh Balla coi lupi è tanta roba eh nel senso che qui veramente stiamo stiamo arrivando una delle anche un gremio che sia nel 90 sì 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 diciamo che è veramente un diciamo che in in Balla coi lupi un film a mio a mia opinione stupendo sotto tantissimi punti di vista ma sicuramente le musiche tanto hanno offerto al successo eh di di questa pellicola eh tanto una pellicola anche eh molto bisogna dire anche un'altra cosa sì 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 un'altra suggestione lancio un'altra suggestione eh John Barry non è mh non è capitato per caso a fare musica da film ecco questa la proprio gli piacevano non non so se eh non non c'è capitato occasionalmente e casualmente eh lui diceva diceva veramente che ehm la musica deve essere esatta deve quasi quasi chirurgica durante il film ehm mentre ehm certi taluni altri compositori definiscono le musiche da film quasi come un qualcosa di secondario questo questo è molto importante secondo me non so se siete d'accordo anche qua l'ho notato anche nei suoi film la sigla iniziale di The Black Hole ripetendo sempre quel film della Disney di fantascienza c'è questa astronave che viaggia attraverso lo spazio e poi ci sono dei dei reticoli che vengono visualizzati nello spazio per far vedere come si chiama distorsioni spazio temporali e c'è questa musica che c'ha delle distorsioni anch'essa armoniche degli archi in prossimità di queste distorsioni quindi si vede che oppure anche quando c'è la scena su James Bond mi pare uno dei primi non so se era il dottor no o la luce con amore quando lui va in albergo c'è tutta una scena senza alcun dialogo abbastanza lunga che lui entra in albergo prende la chiave sale di sopra prende i bagagli sistemi i bagagli entra in camera tutto fatto a tempo di musica tra l'altro come se fosse un videoclip questo mi porta a pensare che come dici te lui metteva la musica in modo chirurgico all'immagine quando invece oggi come oggi sento delle interviste di alcuni compositori che dicono ma quel regista mi ha chiesto delle musiche per un film io neanche l'ho visto gli ho dato sta partitura e buona notte a secchi per qualcuno è un ripiego è per qualcuno è un ripiego considerato un ripiego e io un po' mi era triste queste cose gente che fa musica senza manco ha visto il film quindi ma almeno guardate il film poi dopo e dopo ci mettete le musiche più adatte come come se fa come faceva lui in effetti molti altri e parlate anche di compositori famosi non fanno così è un errore su cui è caduto anche morricone quando 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 tarantino gli chiese le musiche per hateful hate e lui non vede il film dice come parla sto film lui dice guarda tarantino dice sto film parla parla di alcune persone che non si sa chi è quei altri e poi ha detto l'oscar in un luogo chiuso in mezzo alla neve a lui gli venne in mente la cosa che già aveva musicato anni prima non tanto lui per john capete gli dire delle partiture non utilizzate per la cosa lì da tarantino senza manco sporcarsi metto beccate queste l'ho riarrangiate un po infatti ci sono delle affinità tra hateful hate e la cosa di carpenter a parte le musiche di morricone che quasi le stesse anche l'ambientazione in mezzo alla neve luogo chiuso degli uomini che non di cui non si capisce bene l'identità fa un po' ridere però è vero e lì lui l'ha dato un po con la sinistra ma l'ha fatta sta colonna sonora morricone io capisco che in italia morricone visto come dio però no dicevo poi ha vinto l'oscar con quel film dico morricone vabbè la morricone vince l'oscar pure quando sono al campanello quindi non vale non va vinti tantissimi ma c'è facile certo che faccia qualsiasi cosa fa vince l'oscar perché va beh c'è anche lui c'ha un suo timbro ed è bravo c'è una sua c'è un suo marchio riconoscibile come ce l'aveva john berry e non solo lui di oscar credo che ne abbia vinti più berry di morricone adesso vado vado a memoria ma credo di sia sai che non te lo so dire controllo subito io di oscar è di oscar intanto che che luca controlla io mi riallaccio al discorso che ha fatto luca della e ovviamente anche a quello di che ha detto fulvio no di di fare di smentire il fatto di ritenere le musiche da film qualcosa di minore rispetto alla musica tradizionale la musica che può essere sinfonica o che può essere quella un po più commerciale anzi è un elemento molto più difficile a mio a mio giudizio perché perché c'è quella necessità appunto che veniva sottolineata da da luca di adattare la musica alle scene cercare di creare una tensione maggiore o minore in base alla minore o maggiore tensione che la scena rappresenta e questo lo abbiamo visto sicuramente in molte pellicole di james bond pensiamo a alcune musiche secondarie no diciamo rispetto a quella tradizionale la musica classica di james bond al al motivetto classico ma ci sono alcune ehm alcune altre ehm partiture che vengono utilizzate per il che so per inseguimenti per combattimenti in più firme pensiamo a quelle dei combattimenti che ci sono sia in thunderball ma ci sono anche anche in si vive solo due volte bene quelle musiche sono le medesime ma vengono adattate anche con una diversa con un diverso ritmo un diverso ritmo in base a come c'è l'evoluzione appunto il fatto che con la piccola anelli ci sia il lo scambio di schioppettate di 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 colpi bene quello deve essere in qualche modo anche eh fortificato sostenuto da una musica rispetto a un momento che la la realtà dell'azione è e e e e e e meno è meno intensa no e quello va ovviamente ad essere eh sostenuto da una musica che deve essere adattabile ma che deve essere sempre ehm gestita dall'autore in base alla necessità scenica questo è fondamentale e questo secondo me è l'elemento premiante per l'ottenimento anche dei cinque premi Oscar ma anche di tutte le altri riconoscimenti che ehm che sono stati rivolti a ehm allo stesso eh John Barry qui ovviamente abbiamo anche dei commenti delle delle che ci sono stati fatti diceva eh più di Morigone anche Nino Rota diciamo grandi compositori che in qualche modo eh hanno rappresentato ma veramente la 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 categoria dei la categoria dei ehm degli autori di cinema di altissimi di livelli pensiamo a a Harry Mancini per dire un altro grande che appunto in qualche modo esatto ma non solo pensiamo appunto anche a a Hollywood Party o veramente tante altre pellicole che in qualche modo hanno reso iconico ai iconici questi eh questi ehm questi autori ma pensiamo anche ne so a a Bill Conti per dire no diciamo che ha firmato molte pellicole della saga di di Rocky di Karate Kid ma di James Bond ha fatto eh solo per i due occhi quindi diciamo che eh diciamo che in qualche modo abbiamo anche una contaminazione eh di generi che in qualche modo però sanno anche evolversi di adattarsi in base alle varie difficoltà perché ovviamente eh sì le musiche di 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 Rocky con quelle di di Karate Kid possono essere similari eh con solo per i due occhi sicuramente eh in quel caso eh Bill Conti ha dovuto fare uno sforzo ulteriore un elemento di adattabilità eh diversa rispetto ad altre ad altre tipologie eh di eh di pellicole eh qui abbiamo un altro film a me particolarmente caro eh Chaplin eh tra l'altro eh diretto da da Richard Attenborough che io sul mio canale ho celebrato eh qualche mese fa per il centenario della della nascita anche qui abbiamo veramente delle musiche molto intense molto melodiche molto anche coinvolgenti nella nell'elemento anche di di dramma elemento romantico e quindi è anche la capacità di Barry di modificare di aggiornarsi di non essere mai uguale a se stesso e questo negli anni novanta poi è ancora più eh più interessante secondo me perché poi negli anni novanta abbiamo anche una nuova eh una nuova fase no della musica quindi in qualche modo reputo che non sia stato facile eh per una per una sessantenne potere stare sempre sul pezzo come è stato effettivamente eh John Barry ha lavorato un'opinione sì no sto d'accordo cioè guarda mi fai venire in mente un'altra cosa mi fai venire in mente un'altra cosa sì quando ci siamo sentiti questi giorni e ti ho mandato delle cose per parlare di Barry adesso non lo spoileriamo troppo insomma comunque ti è parso strano riferimento a Wagner giusto? sì sì mi fai rivenire in mente proprio questo il riferimento a Wagner invece è molto tipico tradizionale ed è eh ed è riferito alla figura retorica del eh del motivo conduttore il motivo conduttore eh del late motive che è tipico sia dei compositori classici che dei mh che dei compositori di di colonne e questo ehm questa figura retorica e può essere sia un accordo ritmico sia un personaggio e sia una una cosa è una tecnica per descrivere una situazione un luogo il primo che l'ha utilizzato è stato Wagner e molti critici musicali eh fanno riferimento a John Barry come quello che l'ha interpretata più correttamente questa cosa non so se avete capito il il tipo di discorso che ho fatto forse sì 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 io l'ho capito perfettamente penso troppo nebuloso non so se è interessante continuo ad ascoltare perché mi piace sta cosa no è completamente classica questa cosa di Barry e lui si è rifatto proprio ai sinfonismi dell'ottocento del 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 passato proprio è completamente questo è completamente tradizionale poi lui strumenti li ha utilizzati anche in maniera in maniera rock ritmica eccetera eccetera però questo è un aspetto tradizionale ecco beh è è che secondo me si riallaccia anche al discorso che abbiamo fatto poco fa sulla complessità eh di poter essere sempre in sintonia con le nuove generazioni che magari hanno dei eh delle delle sensibilità eh anche per una questione di formazione eh mi rendo conto che un musicista formatosi negli anni negli anni quaranta e cinquanta eh possa avere un un approccio eh anche metodologico completamente diverso rispetto a un a un musicista a un a un compositore che si può essere formato negli anni settanta quindi questo è va da sé che c'è proprio una diversa sensibilità inevitabile sì certo ma proprio proprio come diceva giustamente Fulvio per una anche ehm un desiderio di essere tradizionalista perché comunque John Barry per quanto possa essere stato innovatore ed è stato tanto innovatore però non poteva mai ehm eh abbandonare un certo di certi delle certe categorie musicali degli elementi che comunque dovevano essere rispettati cioè io ho poche regole ma quelle regole devono essere sempre rispettate poi posso all'interno delle regole andare a gestire la cosa e essere molto libero però pochi punti fermi sì sì esatto quei punti fermi che potrebbe essere quella nota di più o quella nota di meno eh devono essere devono essere quelle non posso andare a contestare a a a a rompere con un un equilibrio che gli comunque considerava tale questo secondo me è di grande di grande importanza e ci permette di valorizzare ancora di più un personaggio come John Barry che è riuscito nel nel corso di quarant'anni di grande attività poi c'è con la sua carriera è durata molto di più però in quarant'anni possiamo dire sicuramente ha dato tantissimo da dagli anni anni sessanta ai primi anni duomila come appunto un un elemento ehm di di comparazione di in ogni caso dove dovevi dovevi ehm eh approcciarti doverti rapportare a a personaggi come Barry questo sicuramente poi diciamo i nomi che abbiamo fatto poco fa di grandi compositori eh del cinema poi non non sono tantissimi a a quei livelli no diciamo che sicuramente eh si contano sulle punte di di due mani non non di più diciamo sono dieci diciamo possiamo essere possiamo arrivare a dieci ai grandi compositori musicali quelli che hanno veramente segnato scritto la storia della musica della musica al cinema proseguendo nella nella sua nella sua carriera abbiamo anche film sempre molto ehm molto legati a anche a tematiche sociali a tematiche umane ma di grande eh di grande successo proposte indecente c'è la c'è la slice un film che poi fece fece epoca non tanto il film stesso ma per un certo modo di di dire un certo certo modo di di approcciare certi discorsi diciamo così è quella famosa proposta indecente ormai è diventata è diventata una locuzione che si usa spesso nel discorso dei discorsi confidenziali di oggi fammi una proposta indecente ti faccio una proposta indecente che magari non c'entra niente con film però è un modo di dire è diventato che tra l'altro poi gli hanno fatto anche una specie di remake un paio d'anni dopo no quello con Nicolas Cage è un altro film con James Caan con James Caan al posto di di Robert Raff un film che c'è la storia che mi ricordo qualcosa ma sì eh mi pare una cosa sì guarda un film che il titolo è diverso ma la storia è praticamente la stessa di 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 uno che perde perde al gioco e diciamo non avendo i soldi per pagare questa perdita diciamo che viene costretto a a a far pagare in natura la la moglie o la fidanzata qui c'era una un commento la colonna sonora di al servizio di sua mestà venne riutilizzata pure in un film della serie UFO assemblato con dei soldi della mitica serie fantascienza made in UK sì che poi non era un film in realtà erano due o tre episodi montati insieme perché era un telefilm la serie UFO Shadow quello che è un comandante Stryker erano due o tre episodi montati insieme tagliati e montati insieme per fare un film da un'ora e mezzo ne hanno fatti ne hanno fatti tre o quattro forse cinque di questi film di montaggio più che altro per il mercato italiano che si chiuse abbia le cui musiche in effetti erano di John Barry in realtà la cosa buffa è che le musiche originali del telefilm c'erano di Barry Gray per cui su 11 legge Barry Gray John Barry c'è una certa confusione anche di nomi quindi non so che che pastrocchi hanno combinato comunque sì è vero hanno usato le scene di alcuni film di James Bond e non solo di insomma stanno credo anche di qualcosa di prima forse se non va derrato ma non ne so sicuro però sì di John Barry di James Bond per di Thunderbolt ecco alcune musica di Thunderbolt l'ho usata alcune musica di Thunder non mi ricordo per che poi adesso aspetta ve la faccio sentire non so se ve la ricorderete era è quella lì dell'inseguimento del del motoscafo alla fine del disco volante sì 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 ho capito ho capito un po' psichedelica anche esatto è molto psichedelica che no qui c'ho non ce l'ho in realtà c'ho 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 quell'altra c'ho quella del tra l'altro l'interessante è quella scena che viene anche ehm mandata al ehm più più veloce no il il disco volante che c'è esatto che si vede che che è molto molto pompata e la musica ehm diciamo eh eh aumenta questa questo elemento vorticoso no quest'elemento un po' eh di sì tra le scene accelerate e la velocità accelerata del motoscafo loro che si si combattono si si picchiano rabbiosamente in 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 velocità accelerata questa musica come dici te quasi psichedelica da un effetto straniante dopo tutto il film fatto sott'acqua con queste musiche un po' battate sott'acqua tutto blablabla il finale PIM comunque ritornando ritornando al servizio segreto di Sua Maestà il film cioè è un film del 1969 quindi in piena contestazione ed è il film quasi più tradizionale anche quella è un contrasto veramente forte sì e devo devo dire che è rimasto di una modernità assoluta io sarà che lo sarà che l'ho visto recentemente io lo 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 valutavo bene anche prima l'ho rivalutato anche di più adesso e con le musiche non ricordo lo si dice che sulla maestà fine anni ottanta anzi l'ho visto fine anni ottanta l'ho visto per la prima volta a noleggio ovviamente e sono rimasto folgorato da quelle musiche che non avevo mai sentito prima e lì la musica veramente veramente in primo piano veramente pazzito tutte robe strumentali cattivise molto ritmate in un film degli anni sessanta di james bond che io conoscevo c'è proprio che ero già grande fan di james bond già negli anni ottanta la prima volta lì di punto al sinistro segreto di Sua Maestà rimasi folgorato da queste stranissime tra ricordi per me all'epoca musica di questa roba impressionante e da lì che poi la rifatte la rifatte david arnold credo che divina insieme propel e herzka è un duo inglese per una compilation di di brani cover di james bond che ha fatto appunto una una cover di questo brano di il sinistro segreto maestà mixato con quello di non mi ricordo comunque luca tornando al discorso di thunderbolt proprio in giorni proprio pochi giorni fa c'è qualcuno che ha che ha consigliato thunderbolt un flop ci sono state una polemica su su facebook io non c'ero all'epoca nel 65 64 no 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 ma c'è una non so se sei assistito alla polio sono stato un po anche messo tirato per la giacca in questa polemica sul flop di 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 una pagina concorrente eh di di su facebook che ha definito eh thunderbolt come un flop perché dice che è invecchiato male visto che eh circa un quarto delle scene sono ambientate sott'acqua e sono praticamente noiose e cose del genere allora che sono lente è vero però che sia un flop in questo senso è difficile dirlo perché poi eh vent'anni dopo hanno fatto un remake di quel film sempre con Sean Connery che mai dire mai che ha le stesse identiche scene quindi se è un flop uno un flop anche quell'altro alla fin fine senza contare che di scene sumacqua i film di james bond ce l'hanno avute parecchie basti pensare a cos'era eh solo per i tuoi occhi la scena sott'acqua con melina con lo scafandro contro gli squali insomma o la scena sott'acqua anche al final io l'ho rivisto quest'estate la penso all'opposto eh rispetto a no ma ovviamente era era eh la mia era una provocazione di di una pagina che voleva fare della provocazione spicciola eh facciandola per un gioco allora flop si 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 definisce un chi quando non ha il il desiderato impasso al botteghino no che poi all'epoca è incassato benissimo è incassato benissimo no ma allora la provocazione di questa di questi commentatori era legato al fatto che si è invecchiato male come film no ma non solo non solo questo per fare gli originali visto che diciamo i contenuti eh noi lo sappiamo bene che eh purtroppo eh non è previsto per per l'anno prossimo e neanche fra per la fra due anni un altro film di james bond se uno vuole parlare di james bond eh diciamo gli argomenti non è che sono così tanti perché diciamo che eh notizie più fresche ecco quindi questa questi commentatori eh hanno eh diciamo aperto un dibattito nel voler rivalutare delle varie saghe di james bond i film meno eh meno interessanti tipo che ne so hanno della saga di ehm di di conneri hanno rivalutato una casca di diamanti che generalmente viene considerato uno uno dei peggiori eh sì 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 e quindi e all'opposto hanno hanno trovato hanno fatto le pulci ai film un po' più iconici quindi che ne so hanno hanno definito una specie di spirito di contraddizione questa esattamente 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 hanno contestato eh skyfall dicendo ah skyfall che è il peggiore della saga e qualcosa allora skyfall non è che sia il peggiore è il meno bondiano perché tutto sembra tranne un film di james bond ma sono primo a dirlo ciò non vuol dire che è un brutto film è un ottimo film non è il classico film di james bond tutto qui ma è una cosa diversa dal dire capito anche se vogliamo dire se posso dire un'altra mestemia come l'ho detto prima di film invecchiati male mi dispiace dirlo però la russia con amore è becchiato malissimo cioè riproposto oggi ci sono delle cose ormai non più tipo la valigetta con dentro le famose 50 sovrane d'oro che c'è fai con le sovrane d'oro con le monete d'oro oggi c'è oggi ci sono le carte di credito i microchip le bitcoin le c'è fai in cacchio fondamentalmente quindi c'è era tutto fatto apposta in funzione di quegli anni primi anni 60 anche le cose però però il fatto di una foto fotografata una gente inglese per dire ti amo tanto ma che cazzo lo fai oggi minimo ti sorvegliano con i satelliti cioè proprio invecchiata male anche la storia stessa perché luca tu ne sai qualcosa se il bancomat non te funziona è un problema perché mi si rompono le carte mi si spezzano mi si graffiano un casino un disastro però è vero sì sì quindi quindi c'è questa questa questo fatto che alcuni film di bondi invecchiano male ma alcuni inevitabilmente invecchiano male perché altri addirittura c'hanno l'unica sovietica che non esiste più altri ancora c'è c'è vabbè quello tutto invecchia male è normale questo insomma tutto cambia dai quindi è possibile poi dipende cosa invecchia male perché alcuni invecchiano male gli effetti speciali di anillo purtroppo non è che sono eccelsi in certi film perché hanno a basso costo i primi film di james bond in altri invecchiano male magari sono le musiche o casino royal del 67 è invecchiato malino diciamo che casino del 67 forse era già vecchio quando è uscito diciamo che non è invecchiato l'anno dopo praticamente già esatto non lo volevo più vedere e qui continuiamo con la carrellata di film di grandissimo livello pensiamo alla lettera scarlata del nel 95 e questo è l'ultimo l'ultimo della carrellata che ho che ho inserito quindi diciamo che vabbè mo torniamo indietro giusto così per per andare il bambino d'oro un altro capolavoro degli anni 80 quindi diciamo che il bambino d'oro era carino tra l'altro mi era piaciuto il bambino d'oro un po' kitsch è un po' kitsch però tra l'altro c'è un attore che fa il cattivo charts dance che qualche anno prima si era visto l'erodo è cattivo anche lì in in solo per i tuoi occhi diciamo che le le musiche di john berry di how well il destino del mondo e del bambino d'oro hanno 86 ha toccato proprio il punto più basso doveva pagare le bollette quindi evidentemente bene allora noi siamo arrivati quasi quasi a un'ora dalla dalla della nostra chiacchieramo sperando che mirco riesca a vabbè però diciamo per ammazzare un po il tempo vogliamo parlare di della della di ipcress e del competitore della saga di james bond paradossalmente prodotto da eri salsman perché come come si soleva dire all'epoca eri salsman voleva cannibalizzare lo lo spionaggio al al cinema ecco la musica ecco la musica di eri salsman molto totalmente diversa molto piano forte c'è lo stesso strumento che c'era su attenti quei due però è un tipo di musica completamente diversa come atmosfera da james bond è più sono un duro prenda pugni tutto questo invece sono da solo vado a comprare l'arte in fondo alla strada e torno nella mia stanzetta dove vivo fondamentalmente infatti infatti è il il interessante come il rapporto tra harry palmer e james bond che sia completamente agli antipodi no abbiamo eri palmer che porta gli occhiali che la pancetta che cucina che 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 il suo problema farsi aumentare lo stipendio quindi ai problemi quotidiani no è mentre invece james bond che non spende spande senza preoccuparsi del conto una nuova sacca da golf quindi non è esatto non non abbiamo mai visto cuci al massimo ha fatto un caffè in vive e lascia morire comunque avrei avrei visto bene un bond anziano interpretato da michael kane io tantissimo guarda l'avrei visto benissimo devo dire tantissimo veramente l'avrei veramente l'avrei veramente idolatrato un film del genere dove c'è lui che però fa il vecchio viverre col foulard la barca il golf club magari una ventina di anni fa ecco l'avrei visto devo dire ma io ancora ci spero che magari richiamino qualche vecchio attore magari anche george lezzo in b stesso che fa il vecchio vecchio 007 sembra un po' nella sua nella sua parte senile michael kane è stato recuperato da nolan quindi in qualche modo un impatto molto 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 interessante luca una domanda mi viene in mente adesso tu l'hai visto la serie recente ipcress purtroppo no e perché non so dove che la fanno fondamentalmente mi sembra che la facevano su netflix qualche tempo fa mi pare io l'ho vista su netflix però francamente non mi pare mi pare su netflix che io l'ho visto faccio fatto anche una recensione io secondo me ti conviene se la recuperi guardala perché particolare particolare mi sono visto il film un mese fa sì scusate mi sono visto il film un mesetto fa e l'ho apprezzato tantissimo anche perché poi tra l'altro c'è un cast a parte michael kane che anche lì è bondiano perché il capo di il capo di harry palmer è il conello rosso interpretato da guy doleman che era già il conte lippe su thunderbolt tra l'altro sì sì quindi ci sono sempre questi poi lo stesso anno lo stesso anno sempre il 65 tra l'altro sì poi il montaggio era di peter ant che poi è stato il regista di il regista di al senso ma sta la scenografia era di ken adam che anche lui aveva fatto la scenografia di di film di boh quindi alla fine e la produzione come dicevi tu prima era di di harry salman ecco è arrivato pure m è arrivato pure m ciao come stai meglio tardi che mai ma noi abbiamo tirato a lungo di chiacchiere perché dovevamo aspettare te capito se no avremmo finito già da mezz'ora capito e allora detto questo buonasera 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 e bentornati e bentrovati alle nostre live giusto? giusto con un'ora e dieci secondi di ritardo buonasera bravo abbiamo fatto anche marchette eh sull'associazione sul libro che sta per uscire abbiamo dato delle indiscrezioni senza svelare troppo quindi in qualche modo l'undici dicembre l'undici dicembre uscirà James Bond 1987 2002 da Dalton a Brosnan 007 verso il nuovo millennio però specifica l'undici dicembre del 2027 giusto? no no però questa sera io vorrei vorrei far vedere che non sono solo se mi permettete è certo mi permettete la tessera 006 la tessera 007 c'è la tessera numero 007 eccolo eccolo c'è arrivato in diretta Giulio ma si vede la camera? adesso c'è il dito tu ecco adesso c'è la tessera numero 007 la tessera più ambita di tutti il nostro baby bond stasera papà c'è la tessera che ucciderete per avere quella tessera numero 007 parliamo di John Barry il compositore delle colonne sonore di 007 no scherzato guardalo qua e stasera e stasera non parliamo di che cosa mi sono perso in quest'ora regressa? ti sei perso che abbiamo l'Oscar di John Barry che è messo all'asta quindi chi lo vuole comprare questo è originale di John Barry e diciamo che chi lo vuole mi fa un'offerta privata e vediamo se se lo vuole aggiudicare ti farò un posto indecente allora in quassenza Mirko abbiamo detto che recentemente su Facebook c'è una pagina che ha fatto dei commenti abbastanza un po' così estrosi per non dire di peggio sui flop e sui top di alcune pellicole e commentavamo come diciamo un flop thunderball un top una caschia di diamanti un flop skyfall un flop skyfall è la giusta che lo stesso lo stesso Luca ha detto allora è il meno bondiano dei film di Craig ma non per questo è un flop cioè non è che per il fatto che è il meno bondiano dei paesi non penso che sia un flop adesso guardamaci in faccia ragazzi Giovanni per esempio di filare dalle imitazioni esatto 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 canun strumento a corde arabo greco turco orientale tipicamente orientale ciao lo usa parecchi filtra ciao vai via Giulio Giulio siamo in Lazio e Bologna e stiamo anche perdendo stiamo vai Giulio se segno chiamami aspetta quindi stiamo parlando di John Barry stiamo parlando una domanda per M una domanda per M ma tu tra John Barry e Al Barry che preferisci chi è Al Barry diciamo che come chi è Al Barry come chi è Al Barry diciamo che diciamo che arte musica e bellezza vanno comunque di pari passo e insomma però M deve mantenere fede al suo ruolo istituzionale e quindi Ah Al Barry sì la Bob Gray che bel panorama è comunque intramontabile quindi se dovessi dare una una minima preferenza citando una battuta del film che bel panorama Al Barry no Al Barry va beh l'ho detta l'ho detta l'italiano l'ho detta l'italiano però parliamo però parliamo però parliamo del top del top nei loro settori una per la bellezza e poi sono scritti diversi perché una è Barry e l'altra è Barry quindi diciamo che è scritto un po' di vero e poi bellezza a parte anche Al Barry c'ha un Oscar a casa adesso non volevo dire ma pure lei c'ha un Oscar ma casualmente io ho anche l'Oscar di Al Barry questo è insieme a quella questo è quello di Al Barry quest'altro è quello di 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 non vorrei dire mi sembrano da piccoli ma se mi arrivate il 65 io vedo Thunderball eh si ho fatto una carrellata una carrellata di film il figure si si guarda ci sono anche film che penso che per te sono iconici anni 80 no gli anni 80 violenti gli anni 80 il tipico film anni 80 violento è Howard del destino del mondo è proprio è la suba della violenza diciamo che Howard è l'emblema della violenza degli anni 80 ma insomma gli anni 80 non sono stati solo violenti però insomma diciamo che il decennio cinematografico degli anni 80 è fortemente influenzato da una violenza che negli anni 70 non c'era e non ci sarà poi neanche nel decennio successivo insomma Howard ma così come Ghostbusters così come Ritorno al Futuro insomma non è che non ci sono commedie degli anni 80 che non sono leggere però insomma parliamo di film che magari il Meredith Copp Robbo sì va bene era anche un altro film di Dato insomma scene un po' più crude sangue che schizzava un po' da tutte le parti però sì un altro tipo di censura c'era anche esatto oggi magari è più più facile io penso di interpretare anche l'opinione di Luca di Fulvio tu guarda i film di Sam Peckinpuck degli anni 70 anni 70 Sam Peckinpuck guarda i film di Sam Peckinpuck che ha inventato la violenza rallentatore Sam Peckinpuck con un anno di anticipo visto che abbiamo già cominciato a parlarne ufficiosamente da ieri e poi proprio ufficiosamente non proprio ma comunque abbiamo cominciato a parlarne già concretamente da ieri e ho capito e avete capito anche voi di rimando che il prossimo romanzo non è che avrò tutta questa capacità di poterci mettere bocca titolo sottotitolo fate come vi pare quarta di copertina trama sinossi scegliete fate tutto voi così non abbiamo problemi comunque adesso stavo pensando a proposito di Mirko che hai in calendario è ufficiale un romanzo no scusa un romanzo scusami un saggio sul Titanic giusto? sì ecco io casualmente ho uno degli Oscar del Titanic questo è quello di Titanic una storia tra gli oscar cosa fai? ma vengono rubare gli oscar a casa d'altri una storia di caccio e fuoco aggiungere nel gas se vuoi trovare il colpatore rubare gli oscar vabbè quindi abbiamo nell'ora che ti sei perso abbiamo parlato appunto di varie varie attività di John Barry sia nella saga di James Bond ma anche in altre pellicole abbiamo Fulvio ci ha raccontato di come e questa è un'anticipazione del saggio che uscirà l'undici di dicembre su una sorta di litigio di incomprensione tra John Barry e Ia durante la lavorazione delle musiche di zona pericolo quindi in qualche modo che ha determinato poi cioè ha contribuito a determinare un'uscita di scena di John Barry essendo appunto zona pericolo l'ultimo film che gli ha musicato tra l'altro anche presenziando con una piccola parte nel ruolo del direttore d'orchestra quindi abbiamo anche analizzato appunto un fenomeno trasversale all'interno di dinamiche diverse ma anche generazionali tra nuovi e vecchi musicista o tra musicisti tradizionali e musicisti un po' più esuberanti come come c'erano negli anni ottanta giustamente il Duran Duran ma abbiamo citato anche altri fenomeni di quell'epoca che sono nati in quell'epoca pensiamo a Madonna a Michael Jackson che sicuramente hanno segnato profondamente gli anni ottanta anche a livello musicale poi proseguendo ovviamente Balla con i Lupi abbiamo citato anche qui premio Oscar appunto visto che John Bernie ne ha vinti ben cinque quindi in qualche modo e stranamente ne ha vinticinque e nessuno per 006 ma diciamo che come sappiamo bene gli Oscar ai film di James Bond sono sempre stati molto avari solo in tempi abbastanza recenti c'è stata un po' una rivavutazione altrimenti fino a qualche anno fa diciamo che erano considerati tipicamente commerciali e poco poco autoriali diciamo che c'è stato poi vabbè Mendes forse è stato il primo che in qualche modo ma nessun Bond è stato candidato all'Oscar né come miglior film né come miglior attore protagonista sì 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 neanche una candidatura in 25 film sì sì vabbè comprensibile però dai diciamoci la verità sì sì assolutamente insomma assolutamente posso capirlo un po' come DiCaprio che era per quanto bravo sia soffre di quei pregiudizi di cui con cui ci mangiano quelli dell'Academy l'Academy è fatta dei pregiudizi però poi l'ha vinto DiCaprio ancora è visto come il ragazzino e quindi anche se diceva Mirko poi l'ha vinto l'Oscar alla fine l'ha vinto ma l'aveva veritato anche nei film precedenti quindi stessa cosa Brad Pitt quando ha fatto quando ha fatto l'esercito delle 12 scimmie però era ancora troppo troppo da troppo poco Reduce appunto anche lì come l'idolo della ragazzina e siccome l'Academy ha certi certi pregiudizi non gliel'ha andato e lo stesso James Bond perché James Bond è un prodotto commerciale 8 bla 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 io avrei candidato al premio Oscar come migliore attore non protagonista io avrei candidato l'M di License Forever soprattutto lui sì l'M License Forever sì ha un tipo di recitazione particolare devo dire comunque Luca tu sai che l'Oscar l'Oscar di DiCaprio che appunto è riuscito poi a vincere è scomparso è appasso è questo qua questo è l'Oscar di DiCaprio che comunque per me è un Oscar immeritato immeritato perché l'Oscar si dà per la recitazione quello che ha subito DiCaprio sul set di The Revenant non è recitazione perché era veramente quello che sopportava cioè non era il personaggio che recitava di avere freddo o di essere sofferente era DiCaprio che veramente batteva i denti nel freddo e veramente stava soffrendo le pene in inferno per cui quella non è recitazione la recitazione è quando stai in studio tutto climatizzato e fingi e sei credibile di avere freddo o di essere sofferente lì invece era veramente freddolito e sofferente hanno dato l'Oscar più come premio di consolazione per quanto sia un gran premio di consolazione che per effettive doti recitative che invece ha dimostrato nei film precedenti Wolf of Wall Street era da Oscar ma è non solo quello anche altri film che ha fatto però vabbè è preso così eh sì però vabbè l'Academy adesso poi è cambiata le regole dell'Academy perché adesso possono concorrere soltanto i film che sono inclusivi che parlano di temi sociali che hanno uno o più personaggi gay neri gialli all'interno del film per cui se no non possono competere nella nella come nella premiazione per cui più si andrà avanti e più saranno pieni di pregiudizi qui dell'Academy perché quindi niente fantascienza niente spy story niente film politicamente scorretti deve essere tutto precisamente e politicamente scorretto quindi Howard il papero purtroppo non potrà mai vincere un film del genere un oscar anche se se lo meriterebbe Howard il papero diciamoci la verità nonostante è avvenuto un sacco di rete Robin Hood di Connery Robin e Marian le leone inverno sempre con Connery anche si ha musicato eccolo parecchio Robin e Marian l'altro gran film anche questo musicato da abbiamo fatto una garellata dove veramente io poi ho selezionato forse diciamo magari ho sacrificato qualcosa ma i più i più noti i più iconici dei film in cui John Barry ha musicato appunto i motivi va bene siamo quasi siamo all'un'ora e un quarto direi che possiamo anche avviarci alla conclusione sottofondo c'è la musica di James Bond io però vorrei sentire l'ufulvio che si è un po' ammutolito c'è qualche altra curiosità tu che c'hai tutte queste curiosità questi pettegolezzi indiscrizioni qualche altra cosa su John Barry che ci racconta ha riferito cosa ha riferito fammi la domanda secca fammi la domanda secca non mi sta vedendo niente più niente fammi qualche domanda hai finito chi è l'erede di John Barry chi è l'erede di John Barry secondo me David Arnold è stato il continuatore perfetto devo dire a livello a livello bondiano David Arnold però a livello generale secondo me Michael Giacchino che ancora non è stato non ha mai fatto un film di Bond ma è bravo però una curiosità che volevo aggiungere adesso è che la casa dove abitava all'epoca John Barry a Londra perché dopo si è trasferito in America è stato utilizzato come casa di M in Skyfall dopo la sua morte quindi la casa era donata cioè donata era prestata dagli erediti di John Barry alla produzione per fare per fare la casa di M è quella dove si lamentava Michael Caine che non riusciva a dormire perché John Barry suonava esatto compilava compilava Goldfinger e smadonnava Michael Caine esatto non si dorme la notte esatto bene bene allora io farei come diceva Giovanni prima se mi posso permettere certo di quinto tipi di compositori non ce ne sono direi cinque sei non di più nella storia proprio del cinema come livello come qualità secondo me questo è il mio parere spassionale concordo bene allora io farei chiudere la qui ci sono alcuni alcuni commenti però un Oscar la carriera a William Shatner ci vorrebbe e poi Giacchino è tosto Giacchino è tosto anche perché tra l'altro anche perché tra l'altro appunto in questi ultimi giorni la temperatura è diminuita quindi Giacchino fa comodo ma no Giacchino ancora di più c'era delle musiche che secondo me non sono adatte al bond di oggi però sarebbero adatte a un certo tipo di bond conneriano di quell'epoca lì molto secondo me ma più flop o più top più top a proposito di Connery avete ricordato i tre anni dalla sua scomparsa ormai insomma recentissimi tre giorni fa praticamente no non l'abbiamo ricordato perché oggi era un altro anniversario però lo ricordi ricordiamo ricordiamo ricordiamolo recentissimo tre giorni fa sono stati i tre anni vabbè tutto qua io l'avevo ricordato tre giorni fa quindi diciamo non ci ho pensato a ricordarlo pure oggi però giustamente giustamente hai fatto bene a dirlo perché comunque è un anniversario anche quello particolarmente in questo caso triste ma allo stesso tempo io lo so bene perché c'avevo il covid all'epoca quindi quando è morto c'avevo il covid quindi e quindi me lo ricordo molto 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 bene feci anche un piccolo video rinchiuso in camera in una mia privata diciamo diciamo stavo blindato in camera detto questo io lascerei la chiusura a M diamo l'onore a lui per la chiusura magari ricorda con l'occasione ricorda anche le attività dell'associazione la riffa non so che facciamo facciamo un po' anche di promozione all'associazione che in qualche modo sostiene il come si dice sostiene la cultura la cultura il ricordo la passione che in qualche modo ci accomuna di questo fenomeno cinematografico ma tutto tondo grazie grazie Giovanni allora si è chiusa in questi giorni la campagna rinnovi per quanto riguarda le preselezioni dei soci che erano già in carica regolarmente attivi nel 2023 è stata aperta dal primo di novembre la campagna in realtà iscrizione 2024 per tutti coloro che non erano soci ieri è stata staccata la tessera numero 126 quindi l'associazione culturale ha ripreso una crescita importante dal punto di vista del suo parco soci attivi è stata lanciata ieri la seconda rifa natalizia dopo il sold out dell'anno scorso abbiamo deciso di riaprirne una nuova per il prossimo Natale del 2023 quindi l'estrazione sarà il 22 dicembre che poi noi seguiremo live come l'anno scorso e il libro il saggio James Bond 1987 2002 come detto è ormai pronto per la pubblicazione è stata già stabilita con una data quindi l'11 dicembre ci sarà l'uscita ufficiale del nostro nuovo libro verrà ovviamente anticipato da altre live e dirette e chissà se magari il professor Cecini ci inviterà su questo canale dove io ormai comincio a insomma poter dire di avere una certa presenza dal punto di vista delle puntate delle trasmissioni fatte dei video registrati magari se il professor Cecini organizzerà una presentazione ufficiale anche su questo canale ma certamente certamente anche perché sei stato denominato belli capelli come la belli capelli pieno di passioni e quindi le attività sono tantissime l'associazione è ritornata veramente operativa il nuovo consiglio direttivo sta già dando i suoi frutti nuovo direttivo anzi come dico sempre nuovo di pacca nuovo di zecca siamo decisamente numeroso e siamo ovviamente tutti in attesa del reintegro proprio di Giovanni Cecini che chissà magari la primavera del 2021 vediamo si riporterà Giovanni in sella in sella questo consiglio direttivo che insomma bello bello corposo quindi le attività sono queste l'associazione ha riaperto ufficialmente le attività dopo un 2023 un po' burrascoso anche per vicissitudini legali e burocratiche e qualora vogliate condividere con noi questa passione per 007 saremo ben felici di accogliervi e quindi detto questo caro Giovanni ricordiamo l'associazione si chiama associazione culturale James Bond Italia sezione 00 se siete interessati sono le pagine social basta andare su google mettete il nome associazione culturale James Bond Italia e trovate il mondo come contattare come avere informazioni iscriversi e chi più ne ha più ne metta allora dopo questa precisa e e completa che è successo Giambazza no che è successo vabbè che è successo non lo so non lo so vabbè ci spiega Giambazza che cosa è questo no che è dottor no questo è il dottor no assolutamente zero interesse va bene bene vabbè poco male allora detto questo vabbè ci sta ci sta non possiamo piacere a tutti e o almeno non può piacere questo argomento a tutti quanti però noi abbiamo fatto oggi la diretta su John Barry che in qualche modo accomuna anche coloro che hanno la passione di James Bond detto questo allora io vi rifaccio vedere questo pezzo della mia collezione questo questo disco con le interessanti musiche di John Barry abbiamo anche l'Oscar sempre di John Barry e dei vari che ho qui in collezione notizie dallo stadio M ancora perdiamo 1-0 il Bologna ci sta prendendo a pallonate quindi John Barry col pollice sopra quindi io ringrazio gli ospiti di questa serata che diciamo in maniera seriosa ma fa presa anche nel corridere perché ovviamente poi non si può essere solo seriosi ma cercare di trattare in maniera anche anche simpatica temi importanti come quelli della 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 delle musiche della cinematografia di John Barry io ringrazio nell'ordine alfabetico appunto Fulvio Greganti Luca Mib Paoloni e Mirko Zomparelli nonché anche Giulio che ci ha fatto il piacere di un saluto lo ringraziamo e lo salutiamo e allora noi ci vediamo domani mattina con una nuova diretta quella delle 6.45 solide il tema non lo non lo dico perché diciamo per chi è interessato lo va a scoprire per rispetto ai presenti non dirò il titolo di domani a parte gli scherzi sono al lavoro e vi ho seguito pochissimo ma ripeterò il video buonanotte infatti ripeto il video era in diretta ma ovviamente è sempre presente per sempre finché ci sono io finché c'è YouTube eccetera quindi in qualche modo allora chiudiamo con un evviva James Bond ma più che altro evviva John Barry mi raccomando mi piace al video iscrivetevi al canale possibilmente iscrivete pure l'associazione culturale James Bond Italia o quanto meno sempre dopo aver messo soltanto il like prima al canale che è più importante esatto esattamente io appunto ringrazio ancora gli ospiti che gli ospiti amici che hanno partecipato a questa a questa a questa diretta parlando appunto di temi che in qualche modo diciamo sono sempre molto sentiti appunto oggi novantesimo anniversario ricordiamo di John Barry allora io auguro a tutti quanti buonanotte a domani con la normale programmazione quotidiana del canale e a presto soprattutto perché dobbiamo presentare anche il libro che fra poche settimane uscirà quindi sarà anche un'occasione per andare a svelare altre curiosità altre indiscrezioni altre suggestioni altri altri giudizi rispetto a quelli un po' più banalotti del flop e del top che abbiamo sentito negli ultimi giorni allora ciao a tutti buona serata e viva John Barry notte a tutti notte a tutti notte notte